Belline queste immagini, eh? Allora, la psicologia tibetana basa molto le proprie indagini in virtù delle reazioni dovute alle sensazioni. Se la sensazione è piacevole, ne deriva un attaccamento e di conseguenza la bramosia, cioè il forte desiderio di ripeterne l'esperienza. Poco male se si tratta di qualcosa che procura benessere, ma quanto dolore ci può procurare se tale attaccamento è di carattere nocivo? In tal caso il coinvolgimento emotivo agita la mente e la mette in una condizione di insoddisfazione fino a che non otterrà di nuovo il medesimo piacere. Se la sensazione è spiacevole, ne deriva una forma di repulsione e anche in questo caso la mente si agita a causa dell'avversione, la quale perdura fino a che non ci sbarazziamo di ciò che ci irrita. Non sempre però è così facile eliminare i disturbi che ci attaccano dal mondo esterno e questo è il motivo per cui solo dentro di noi possiamo cercare una liberazione. L'analisi delle sensazioni per trovare la loro origine, avere coscienza di dove ci portano e apprendere l'arte del controllo mentale per non lasciarci sballottare ovunque, di qua e di là dalla nostra mente, è di vitale importanza per l'ottenimento della quiete interiore. Dobbiamo sapere che molte delle nostre reazioni negative sono dovute unicamente al tipo di sensazioni che stiamo vivendo. Ci sono movimenti interiori gratificanti e salutari per il nostro corpo e per la nostra anima e agitazioni che causano gravi stati di malessere. Rincorrere ogni genere di sensazione a causa del dispiacere o del piacere provato, senza saper valutare quanto ne valga la pena e senza avere un metodo per evitare di farci sopraffare, significa aprire la porta ad ogni forma di dolore. Imparare a conoscere le nostre reazioni interiori e a dirigerle in modo che non possano più nuocere a noi stessi e agli altri è il vero, sano, direi unico cammino della ricerca spirituale interiore. Tratto dal corso Naturopatia dell'anima diventa consulente filosofico. Bye bye! Naturopatia dell'aula